Ben trovati con il TG List di Telebari. Resti umani appartenenti a un giovane di 27 anni scomparso ad agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano. La scoperta è stata fatta mesi fa ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi a conclusione di una serie di accertamenti. La vittima è Angelo Tricarico scomparso da San Nicandro Garganico ad agosto del 2013. Nel pozzo è stato trovato anche il documento di identità del giovane Ebrandelli dei Vestiti che indossava il giorno della scomparsa. Ammontano a oltre 2 milioni di euro i ricavi non dichiarati al fisco da parte di una impresa salentina con sede a Tricase che operava nel settore della formazione scolastica. Secondo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, l'impresa non ha presentato la dichiarazione dei redditi dal 2018 al 2022 sottraendo così a tassazione gli ingenti ricavi conseguiti. Inoltre i finanzieri hanno accertato l'indebita compensazione da parte dell'impresa di crediti di imposta per oltre 70 mila euro. Risultati finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il teatro Petruzzelli di Bari con i teatri alla scala di Milano, Finice di Venezia e Reggio di Parma riconosciuto come Monumento Nazionale. La Commissione Cultura della Camera ha infatti approvato un emendamento firmato dal Capogruppo di Forza Italia Rita dalla Chiesa con la proposta di legge per la dichiarazione di Monumento Nazionale di Teatri Italiani al fine di garantire a questi storici contenitori culturali un riconoscimento che ne valorizzi il prestigio, la storia, le attività. Il via libera definitivo arriverà con l'approvazione della legge da parte della Camera e del Senato. Il Consiglio regionale pugliese ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia e Forza Italia e l'astenzione dei consiglieri della Lega, la Puglia Domani e del consigliere Napoleone Cera la proposta di legge per creare le condizioni affinché la gestione del servizio idrico resti nelle mani di Acquedotto Pugliese e quindi pubblica anche dopo il 2025 quando scadrà l'affido. Una direttiva europea infatti impone che la gestione del servizio idrico venga messa a gara. In questo modo ci sarebbe il rischio che dal 2026 finisca in mani di privati. E' stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Mario Lerario, ex dirigente della protezione civile pugliese accusato di corruzione insieme all'imprenditore Antonio Illuzzi al quale è stata inflitta la pena di 4 anni. I due sono stati giudicati con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Bari. La pubblica accusa aveva chiesto 6 anni per l'erario e 4 per Illuzzi. Il giudice ha rinviato a giudizio Antonio Mercurio, ex funzionario della Regione che risponde insieme all'erario di abuso d'ufficio. Il processo a carico di Mercurio, che sarà giudicato con rito ordinario, comincerà il 3 luglio dinanzi alla seconda sezione collegiale del Tribunale di Bari. Per la Procura Illuzzi avrebbe pagato all'erario in due diversi momenti tangenti per 35 mila euro per ottenere l'affidamento tra il 2019 e il 2021 di appalti della sezione provveditorato economato della Regione Puglia da oltre 2,2 milioni di euro. Stretta sull'abbandono dei rifiuti a Bari, il personale dell'AMIU insieme agli agenti della Polizia Locale di Bari ha passato al setaccio diverse zone del quarto municipio dove a fine gennaio è partito il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Sono stati individuati luoghi dove ripetutamente vengono abbandonati i rifiuti da parte delle utenze. Gli operatori hanno aperto i sacchetti nel tentativo di verificare l'eventuale presenza di indizi così da sarile ai responsabili. Gli ambulatori di endocrinologia e diabetologia pediatrica del Giovanni XXIII di Bari sono stati accorpati per assicurare migliore assistenza e maggiore copertura dei servizi per il primo accesso e la presa in carico dei pazienti. A renderlo noto è il Policlinico di Bari che in una nota spiega in questo modo i tre medici specialisti in pediatria e i tre medici della pediatria opereranno unitariamente assicurando così l'apertura degli ambulatori per un numero maggiore di ore e di giorni anche di pomeriggio durante tutto l'anno. C'è anche Bari tra le 19 città italiane in cui in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare sarà possibile consultare una psicologa per avere una diagnosi corretta e consigli rapidi ed efficaci. L'iniziativa è organizzata da Food for Mind, la più importante rete per la cura dei disturbi alimentari d'Italia che ha esteso i consulti gratuiti in tutto il mese di marzo. Con i suoi 118 mila occupati Bari è la città tra i comuni più grandi con il tasso di occupazione più elevato del mezzogiorno 57,7% e quanto emerge dai dati diffusi dall'Istat che collocano il capoluogo pugliese al nono posto per occupazione tra le grandi città italiane. Ottimo anche il dato dell'occupazione femminile che è aumentata di 36 mila unità dal 2019 ad oggi. In questi ultimi quattro anni abbiamo potuto sperimentare la resilienza delle piccole e medie imprese della regione Puglia, commenta il presidente della Commissione regionale sviluppo economico Francesco Paolicelli. In tutto il territorio dichiara ancora c'è un gran desiderio di crescita e di sviluppo che stiamo cercando di intercettare coniugando le politiche industriali con i bisogni delle imprese, l'innovazione, il talento delle nuove generazioni. E con il TGList è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie.